La nostra casa Io non mi sporgo in avanti così Ben tutto io la quale dicevo Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo un bellissimo tour della mia casa in Giappone Venite con me Ecco qui la casa Adesso premiamo e vediamo se c'è qualcuno in casa Tadai ma Siamo anche Kumiko Anche Kumiko in questo video saluta Minasan 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 C'è anche Kumiko Ciao Minasan 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 C'è anche Yuka Che ci sta facendo questo video Ciao Ci hai preparato un bella cena vero? I dinna Tutte cura tanda io ne? Hai Can't wait Qui abbiamo un bellissimo forno a microonde Guardate quanto è carino il forno a microonde Si si può fare l'obento Un sacco di belle cose E poi cos'altro c'è? Qualche cosa hai messo per esempio? Adesso andiamo ad aprire un po' le scatole di Kumiko Guardate che bello Guardate com'è Ci sono i piatti Le stoviglie No un po' di piatti Un po' I bicchieri Qua per il vino Qui ci abbiamo delle tappe Qui ci abbiamo il lavandino La pribottiglia Il tostapane Vedete una bella casa comoda Questo è il gas E qua praticamente questo è l'angolo cucina della nostra Kumiko In cui Kumiko cucina Guardate questo è l'appartamento Vedete? Basta premere qui E si riscalda da solo Vedete com'è pratico Ah Yuka deve tornare a casa Rigatone Abbiamo fatto un sacco di foto con Yuka Vi lascio qui il suo Instagram E guardatevi un po' le foto che abbiamo fatto Rigatone vai vai Quando se ne va qualcuno dovete sempre dire Itterasai in giafonese Itterasai Ok ragazzi Questo è il posto per abbellirsi Qui ci abbiamo un po' di creme varie Che vengono quasi tutte dalla Corea Stranamente Qua prodotti che uso spessissimo Qua degli occhiali da sole Molto particolari Molto belli anche Liquido per le lenti Questo poi per pulirsi bene Vedete come sono diventato un esperto Poi proseguendo qua abbiamo La piastra crema solare Curi c'ho io Io sono bra Questa crema solare che ti fa diventare bello bianco Adesso vi porto a vedere il cesso Dov'è il bagno? Hai Ecco qui il bagno che ci abbiamo Ci abbiamo un cesso Tecnologico Vedete con tutti i bottoncini Peccato che questo bagno Purtroppo è un po' un bagno non Fantastico Perché non ci sono le canzoni Ci sono anche dei bagni in Giappone Che hanno le canzoni di Serafi No vi giuro che ci sono Che fanno i rumori Donna auto suru no Insomma Tu vede Già Già Fanno tipo i rumori delle spiagge Per non far sentire se state facendo delle puzzette Che può essere poco carino Poi qui c'è la vasca da bagno Vedete Stesso cumico E vabbè questa è la vasca da bagno Qui abbiamo il sapone di seba Poi qui abbiamo lo shampoo Poi qui abbiamo anche il balsamo Bene 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 Proseguiamo La carta igienica La donna delle pulizie Ogni volta Quando finisce di usare la carta igienica La lascia sempre così Così la potete prendere facilmente È fantastica Poi qui abbiamo un po' di arte moderna Qui abbiamo un bellissimo sofà Ecco guardate che bello Cumico vuoi dire qualcosa in italiano? Italiano con anche i tei? Sei che il banchio stai Il banchio stai Il banchio stai Il banchio stai Ciao Ok poi qui abbiamo l'angolo studio Poi qua vedete è molto bello Perché si possono fare Fare le telefonate Sì pronto Va bene tutto bene Poi che posso prendere delle note Per esempio guardate Scriviamo una nota Non lo so Scriviamo Queste qua sono le cose che devo fare oggi Ascoltare la canzone di Fire Su Spotify Ho abbiamo un altro video Poi buon encuentro foil Spottifwirtschaft De Fire Sono pot Soccer SARI Oh Iscriviti generico Son- gerek Vision T Questo è un bellissimo toque, poi ci sono i Kleenex che non possono mancare in una casa giapponese Qui abbiamo il modem del Wi-Fi, qui c'è questo per regolare la temperatura, il riscaldamento, molto pratico Vedete basta premere qui poi si sceglie la temperatura Una lampada un po' inquietante però si muove un po' da sola, però c'è questa lampada bellissima E adesso andiamo nella stanza da letto Questo è il letto di Seba e quello è il letto Kumiko Poi qui abbiamo le valigie che domani si parte per Hiroshima, a sta Hiroshima i cucarà I painimots, guardate che belle le scarpe che ho preso l'altro giorno E altre scarpe, qua abbiamo le slipa, questo in realtà è un hotel Ferro da stiro, abbiamo anche il ferro da stiro Guardate che carino Qui c'è l'asse da stiro, una sedia, il futon per l'inverno Finestra con vista Ah guardate che bello poi che abbiamo anche la porta scorrevole Slide indoors, tipica del Giappone E quindi questa è la nostra casa La nostra casa Casa E vabbè ragazzi poi qua c'è la televisione In cui si possono vedere i programmi un po' di tutto il mondo Perché abbiamo il decoder E niente, ditemi che cosa ne pensate di questa casuccia Ditemi se vi è piaciuto questo tour E se volete altri video di case giapponesi Scrivetemelo nei commenti che ve le faremo Adesso stiamo per uscire che andiamo a mangiare la pizza Che ho pizza da benicù? Ok quindi ecco qua il look di oggi Così ci siamo preparati Vabbè ragazzi siamo pronti per uscire Oggi andiamo a mangiare la pizza Siamo andati anche a trovare Ciao Ciao Oniaki arigato Yeah Gli abbiamo portato un po' di dolci della Kinder Siamo arrivati a Kigashi Nakano E adesso andiamo con Kumiko a mangiare Una delle pizze preferite dagli italiani in Giappone La pizza italiana Ci abbiamo anche un arancino E il prosciutto tagliato grosso Kumiko sei contenta di provare la pizza italiana? Sì Comunque devo dire che questa pizzeria È tra le preferite dagli italiani in Giappone La pizza siciliana Io non mi sporgo in avanti così Eh ma fai tipo gli occhi tirano No perché devi dare l'emozione capito? Ciao La pizza carbonara La domanda è sarà più buona della pizza nel cono? Lei ha mangiato la pizza con hawaiiana Vai Kumiko Itadakimasu Buon appetito Buon appetito Carà, carà, carà Carai? Piccante No, no, no Katai Katai? Dura Katai Lezioni di Giapponese Katai, duro Katai Katai suki? Muchi mochi ga i? Eh, il giorno ho suki Ah, davvero? Com'è? Oh Buona? Oh Oishi? Oishi desu konoge Do, do datta? Oもしikatta Oshikatta? Oh, oもしikatta Ha detto che è stata divertentissima Ah, anche non buona Poi esagerate Guardate che bello l'arancino anche da dentro Buona? Dite tutti pizza ciro Pizza ciro No Vai vai Pizza ciro Allora stiamo andando a casa di Silvia E stiamo per fare il gioco di Hitori Kakure Silvia Mi ritrovi di fare un video? Ma no, no Allora lei è una cartomante che vive in Giappone Se volete che vi legga le carte Una nera Eh ma perché? Ma io ti faccio pubblicità Potete, le legge anche su internet Le legge via Skype Ma io ti conosco No, questa è la figa di lei Oddio Però è un po' più fallica Questa è casa tua? No Più o meno È una casa mia È una casa mia È una casa di Federico In onore di La sua casa è bella È una casa moderna Invece la tua è una casa più antica Più decorata No, la mia Ok, cioè È una casa di la P Che è una share house Ah giusto È di fontana Non ci ho pensato Bellissimo È troppo carino Ma io voglio una foto lì davanti Dai vai Vuoi la foto o il video? O foto e video? Se vuoi il video Ti faccio la maid Con l'amore Ok vai vai Oddio Si sono accese le luci Perché stanno lì davanti Adesso c'è la P E Oi si conare Moi moi Kion Bellissimo Ragazzi stiamo andando a scoprire Dove vive L'amica cartomante Quella che fa tutto via Paypal Siamo arrivati Questa Oh mio Dio Ah ma scusa Oddio è peggio Oddio Ma dove inizia E dove finisce Posso vederla da dentro? Ma tu vivi da sola? Ma sì Facciamo il tour della casa Sì no è veramente dolce Un abbraccione da Seba E anche da Kumiko Ragazzi Se volete seguire Kumiko su Instagram Ve lo lascio qui Ciao Ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Shoebostiano Sera finire in maggiori digital store Cosa Lei Prendito Cosa Sera Cosa Cosa Grazie a tutti.